Ancora quest'anno ho voluto fare un ulteriore tentativo di impiegare questo straordinario materiale che è il metacrilato, il plexiglass, per le sue proprietà ottiche di rifrazione che fanno con la luce dei giochi straordinari. Quindi, vedete qua, è un po' come se io fossi in mezzo ai grattacieli di Shanghai con tutti questi guizzi di luce e questi volumi che si incrociano. Io ho fatto una specie di zigzag disuguale, a spigoli tutti disuguali, riportato anche in scala molto più piccola sulla base, quello che rappresentava la parte superiore e abbiamo connesso, detto al computer, di connettere gli spigoli superiori con quelli inferiori spostandosi di due o tre posti, in modo da avere questa rotazione a spirale quasi, anche se con raggi diritti. Dopodiché è cominciato il lavoro complesso di verificare se sarebbe stato possibile sformare questo oggetto.